Vogliamo essere trattati come tutti gli altri cittadini. È questo il grido che si erge dalla periferia di Torre del Greco. Intere zone abbandonate, sommerse di rifiuti, derubate dell'arredo urbano. Cassonetti mai consegnati, ritiro della differenziata non effettuato quotidianamente, ingombranti di ogni genere. Mobili, televisori ed elettrodomestici vari, senza dimenticare i vari pezzi automobilistici presenti. Tutto ciò dato dalla situazione di totale abbandono delle strade nella periferia torrese, dotate sì di illuminazione, ma che mai è stata funzionante. Tombini, ascensori e lampioni, derubati delle loro componenti dagli sciacalli di periferia che nell'oscurità si aggirano e delinquono. In questa zona, purtroppo, poiché è una zona isolata, noi praticamente siamo in una condizione veramente scabrosa. Qui arrivano gente da tutte le parti a scaricare ingombranti che andrebbero scaricate nelle zone designate dal comune. Però, siccome è isolato, la sera c'è poca luce e addirittura vengono anche di giorno, questa è la situazione. Vi sembra che noi che paghiamo le tasse dobbiamo stare in queste condizioni. Scusate, se agli altri paesi questo non avviene, perché qui deve succedere questo? In città molte strade sono pulite perché, insomma, è il centro città, però perché qui non deve esserci la stessa manutenzione. Una periferia che non è neanche dotata dei cassonetti appositi in cui depositare appunto i rifiuti. Sì, effettivamente, neanche i cassonetti hanno messo, qualche volta ne hanno messo uno, uno, giusto uno, e poi se lo sono venuti a riprendere. Io non capisco perché. Oltre ai rifiuti che si accumulano, ovviamente, nelle strade, non essendoci dei punti di ritiro, non essendoci dei cassonetti, ci sono anche numerosi ingombranti, elettrodomestici. Sì, addirittura gomme di macchine, addirittura, diciamo, elettrodomestici, televisore, ogni tipo di cosa. Per cui mi sa che si deve fare qualcosa. Io chiedo all'autorità comunale che è preposto che si dia una mossa, perché non si può andare avanti così. Non è giusto che noi siamo in queste condizioni solo perché siamo in una strada un po' più, diciamo, più in periferia, come anche questa strada nuova, che di sera non c'è una luce. Non è possibile che fanno una strada. Hanno messo le luci ai primi tempi. Si sono rubati i fili non so chi e oggi siamo nelle condizioni che non si può neanche camminare di qua, che non c'è una luce accesa. Non è possibile. Non parliamo poi del cavalcavia. Il cavalcavia è impossibile. È impossibile. Addirittura hanno rubato i ferri. Quindi, voglio dire, abbiamo delle strutture. Dobbiamo anche mantenerle. Aree, comunque, come diceva lei, più di periferia, più nascoste, se vogliamo dire, che diventano aria fertile anche per quella che è la criminalità. Ma sicuramente. Figuriamoci. Anche qui, voglio dire, si vedono persone che non voglio neanche commentare. Purtroppo, cavalcavia e solitario fanno un po' quello che vogliono. Noi cittadini chiaramente vorremmo essere uguali agli altri. Perché dobbiamo essere discriminati in questo mondo.